bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tante le notizie di fortnite per il futuro del nostro battle royale preferito forse non lo sapete ma stanno tantissimo aggiornando gli elementi del fort nightmares infatti oggi vi mostrerò la nuova ltm con tanto di gameplay le nuove cose che arriveranno nella mappa le conferme di cui vi parlavo anche il nuovo bundle di nintendo switch e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e porca miseria mi sono dimenticato di mettere le immagini maledizione non è ovviamente iron man che vi ho già fatto vedere ieri vi chiedo veramente scusa ma il primo argomento di oggi si tratta della copertura di cui vi avevo parlato già ieri questa è una nuova immagine che si capisce un pochettino poco ve la faccio vedere in bianco e nero la copertura bones quindi le ossa sappiamo sarà del set dello school trooper ed ecco qua una bellissima immagine di come verrà applicata sulle nostre armi devo dire che niente di esagerato ma non è male quindi vi invito a farci un pensiero se per caso avete intenzione di prenderla nello shop e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché guardate un pochettino questa immagine noterete sicuramente che non è né giorno né notte ma c'è una fitta nebbia che copre tutta la mappa questa nebbia già l'avevamo vista l'anno scorso nel fortnight mers proprio se non ricordo male ed è confermata da questa stringa di codice default spooky mist duration quindi non sappiamo anche se ho paura che sarà come l'anno scorso la durata di questa nebbia se sarà per tutta la partita o se arriverà e poi andrà via ora io non ricordo con precisione ma la scritta duration mi fa pensare che possa avere appunto un timer anche perché ricordo che ci eravamo un po lamentati per il fatto che non si vedesse assolutamente nulla e quindi ti arrivava da indietro la gente facendo gli agguati nuova cosa quindi staremo a vedere come verrà introdotta andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono i nuovi zombie perché dico nuovi perché non abbiamo ancora chiaro se siano come quelli che siamo abituati a vedere e che quindi sponeranno dai pezzi del cubo che potrebbero tranquillamente tornare oppure ne verranno fatti di altri però oli gli audio di questo di questi zombie e quindi ve li voglio fare sentire qualche secondo quindi come sentite ragazzi molto molto tetra come musichetta assolutamente azzeccata e preparatevi a correre perché ci seguiranno per tutta la mappa ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché anche la nuova ltm finalmente ha un pochettino le cose scoperte arsenic game mode che in realtà non sono sicuro si chiami arsenic ma dovrebbe chiamarsi infected ltm e infatti la modalità è proprio infettati contro umani in poche parole è una specie di nascondino tra gli umani e gli zombie gli umani hanno le abilità classiche che siamo abituati a vedere in game mentre gli infettati zombie chiamateli un po come volete non possono buildare possono solamente attaccare con il piccone urlare sniffing sinceramente credo sia cercare o comunque roba del genere cosa fanno in realtà in realtà hanno la possibilità di farmare col piccone molto più velocemente quindi anche di attaccare molto più velocemente il doppio salto e la possibilità di ottenere la rigenerazione della salute quindi dopo il countdown se un umano appunto viene ucciso da uno zombie respona come uno zombie e il potere degli infettati quindi l'urlo serve per capire se ci sono degli umani nei dintorni ho un piccolissimo spezzone che vi fa capire di che cosa stiamo parlando e ve lo faccio vedere eccolo qua come vedete ragazzi alzando il braccio al cielo si fa l'urlo la velocità del piccone è raddoppiata e quindi non abbiamo assolutamente niente da nascondere vedremo come sarà questa modalità e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è anche finalmente la conferma ma già lo sapevamo del pumpkin launcher ragazzi il lanciazucca che torna solo per questo brevissimo periodo del fortnight mars una delle armi più belle più storiche di fortnight e abbiamo proprio il post che ci dice o sembra che gli edgeman quindi gli scagnozzi che arriveranno sempre nel fortnight nightmares sono confermati dalla stringa di codice atena gasket type 05 tag to tell how to drop rockets questo vuol dire che gli scagnozzi dropperanno anche le munizioni insieme al lanciazucca ma non capisco cosa vuol dire l'ultima frase ho un one shot and you're back to the lobby quindi non ricordo adesso quanto sia il danno del lanciazucca ma mi sembra veramente strano che possa togliere più di 100% staremo a vedere se per caso ci sarà qualche modifica e prima di salutarvi volevo anche parlarvi di un'altra ltm che sta per arrivare che è caratterizzata dalla dalla presenza di golden ticket e di golden drops si chiama race se non ricordo male la modalità e dice a race to the finish trova i ticket d'oro negli negli airdrop speciali ferma gli altri giocatori dal prendere i ticket colleziona il numero di ticket richiesto per raggiungere la linea del traguardo e quindi vincere la partita win plays show anche qua ragazzi qualcosa di simile alla modalità taxi ma staremo a vedere se c'è qualche gameplay purtroppo adesso non ne abbiamo comunque le notizie ragazzi per oggi sono terminate perché non ce ne sono altre io vi ringrazio tanto per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao